Bella ragazzi sono Flane e bentornati siamo qui oggi su minecraft con una nuova mappa ovvero il cacciatore di streghe Ormai era dal tempo delle locuste in Egitto che non facevo minecraft Disney Ma prima di cominciare ho lasciato un bel mi piace Insomma anche per sostenere un allevamento di anatra in Columbia Ok per cominciare che dobbiamo prendere praticamente una cartellata in faccia E dovrebbe aprire in teoria il cancello Ok perfetto abbiamo qua la guardia del cancello Joe E Joe insomma Madonna santa che naso lungo In pratica il maggiore Wendel vorrebbe parlarci riguardo all'abbattimento di una strega Dobbiamo fargli visita al più presto Benissimo allora adesso dobbiamo trovare questo sindaco che non ho una più paglia idea di dove sia Anche perché le indicazioni sono tipo quelle che dal navigatore satellitare in un pozzo sperduto della Cambogia Allora se mi butto nel fuoco secondo me non risolvo niente Ok ci conviene esplorare prima un po' la zona nel caso ci sia qualche cesto Non so chi abbia fatto questo lavoro di muratura però qua signore passano i topi eh Guardiamo un pozzo che abbiamo messi messi Il messi dislessico praticamente quando visitai la casa del sindaco Wendel Ma dimmi dov'è non me ne frega niente di cosa hai visitato Allora gran bella casa e per l'amore di Dio io spero sia questa qua c'è uno scrigno Ok allora di qua non ci posso andare qua non ci passa ok Torniamo fuori da questa casa che è praticamente inutile Qualcosa mi fa pensare che sia questa la casa del sindaco anche perché è gigante Abbiamo dei libri, inutili libri qua c'è una scaletta Sindaco se ti nascondi sugli alberi dimmelo prima che ti arriva una padelata in faccia Questo cos'è? E' proprio quello che ci vuole Salve c'è qualcuno in questo villaggio porca troia raga non si vede assolutamente niente Questa casa la mi sembra di esserci già stato Vediamo le caramelle raga insomma non guastano mai Ecco dentro cosa abbiamo? Sembra tutto deserto non si trova assolutamente nulla Non so se il diavolo sia sto fottuto Uè Geraldo come andiamo? Ti ricordavo con il naso più piccolo non è che posso per casa affettartelo No vabbè sono lo stesso Tu devi essere il cacciatore di streghe ti ringrazio per quello che stai facendo Non ho ancora fatto niente sono neanche capace di trovare il sindaco Figurati le streghe allora tu non hai niente da rubare qui dentro Quindi sei palesemente inutile Usciamo subitissimo raga di qua perché sto solo perdendo del gran tempo Lì ci sono già stato qua ci sono stato Raga proviamo ad andare su di qua Qui da dove vengo mi sembra O no? No questo è il cimitero Eh beh Madison se ne vanno sempre migliori mi dispiace E lo credo bene Poi pure mi può dire dove sto cavolo di sindaco Che appena lo trovo gli pianto una randellata di Qua c'è quel pozzo dei riti voodoo che Vabbè mi ha fatto le ragnature quindi vuol dire che non è che ne facciano poi così tanto Allora chi cavolo è che mette i teschi comunque fuori dalla porta Porca troia Ragazzi finalmente dopo 6.000 anni l'abbiamo trovato Sì che non è buona Salve signor sindaco adesso guardo prima se posso svaliggiarti casa Perché uno che ti svaliggia la casa che non ti conosce può anche passare per ladro Se invece uno ti svaliggia la casa che lo conosci passa per stronzo E noi sicuramente non vogliamo essere stronzi Ok non ha nulla in casa quindi ragazzi direi di passare subito con la missione Salute cacciatore di streghe Aspettavo il tuo arrivo e infatti insomma sono arrivato anche piuttosto in fretta Dopo aver girato mezzo villaggio con qualche cartello ogni tanto si può anche mettere Arriviamo al punto in pratica c'è una strega che si è nascosta nel bosco e sta terrorizzando tutta la città Appare un orario casuale ammazza tutti uccide tutti in pratica fa un po' di scambiabare Ho pagato qualcuno per uccidere questa strega e non mi importa che venga bruciato o qualcos'altro L'importante è che muoia Ho bisogno di te devi tornare indietro fino al cancello dove sei entrato E parlare con la guardia del cancello Joe Ok lui aprirà il cancello per te Va bene sindaco mai più rivederci Dobbiamo tornare praticamente nel cancello dove siamo entrati dove c'era Joe Adesso non mi ricordo se era a destra o a sinistra O forse era dritto Qua c'è Joe in tutto il suo splendore Joe comunque non c'è bisogno di nascondersi Io non volevo offenderti per il fatto del naso Cioè non è che devi per forza metterti in mezzo a un cespuglio Non è che potessi per caso aprirmi il cancello Non dirlo al sindaco Wendall Ho perso le chiave o qualcuno me le ha prese o rubate Aspetta un secondo Potesti investigare per me girando attorno alla città Certo Joe c'è per te il tuo naso o qualsiasi cosa Conto su di te torna indietro quando avrai delle informazioni Mentre ero scemo ragazzi lo so Torniamo a parlare con Messi magari ne sa qualcosa Stai cercando la chiave perduta Io di questo non ne so niente Messi guarda Sei veramente inutile Però potresti investigare nel semi interrato del sindaco per me Ti servirà una torcia per vedere là sotto Perché non ci si vede niente Perfetto Sfortunatamente ho prestato la mia torcia a Gilbert Ok devo trovare lui per farmi dare la torcia Per andare nel semi interrato del sindaco Per aiutare Messi che in pratica a noi non ci ha aiutato È una minchia E lo credo bene Questa cosa raga non ha senso Però comincia a contorcersi questa storia Io devo praticamente tornare da Gilberto Adesso Gilberto non mi ricordo dove sia Vediamo se c'è qualcuno su di qui Qua c'era il cimitero Ok Gilberto dovrebbe essere qua dentro Se non erro Dove mai potrebbe essere andato? Ok il problema di sentire da Messi Cosa mi ha messo fuggito un qualche passaggio Ti sei dimenticato parla con Gilbert per la torcia Ma stai attento un po' fuori dai coppi Benissimo Dai Gilberto dove cavolo sei finito? Di qua non c'è Qua c'è il nostro amico Joe In questa casa non mi ricordo se sono stato mio Abbiamo trovato Gilberto Ti ricordavo ho messo meglio eh Poi questa scusami ma non parlo con gli stranieri A meno che tu non abbia delle caramelle In questo caso si può corrompere raga In questo mondo chi non si è mai fatto corrompere dalle caramelle Noi ce l'abbiamo le caramelle Ma non sono abbastanza raga È estremamente ingordo Ed è estremamente ambiguo Ok raga dobbiamo trovare delle altre caramelle Trovare la mappa dopo mezz'ora che si gira Non ha veramente prezzo Dimmi te se un tossico al giorno d'oggi si deve impasticare con le caramelle One eternity later Dai porca troia Che non c'è mica una diavolo di caramella in giro Non c'è qualcuno Torniamo dal nostro amico Strabico qua in cima A vedere se ha imparato qualcosa di italiano No proprio non c'è verso Mi ero dimenticato di quanto fosse figa la nostra skin Banane Si ho capito che devo parlare con Gilberto Il problema è che non vuole le caramelle Io le caramelle non le trovo Non è che c'è delle caramelle in casa Che posso svaliggiarti Qua è tutto vuoto Qua non c'è nulla Ho perso anche la spada per andare a parlare con quel tossico C'è proprio la massima ambizione nella vita è già stata raggiunta Facciamo una cosa Dato che c'è una qualche casa che non ho ancora esaminato Andiamo dove c'è la mappa E guardiamo un po' dove sono Ragazzi purtroppo mi sono accorto che non mi ha registrato una fottuta minchia Dunque il riassunto In pratica il signor Gary ci ha mandato a prendere un fiore In una tomba nel cimitero Gli abbiamo riparato questo fiore Lui in camicia ci ha dato una caramella Dopodiché si è sentito una grandissima esplosione Sono arrivati in piazza e c'era il signor Geraldo Che sembrava un mezzo tossico E dopo essere morto ragazzi ci ha lasciato questa cesta Che conteneva appunto questi due biglietti Che in pratica ragazzi ci avvertono e ci dicono di andarcene Altrimenti verremmo uccisi anche noi Ma quello che non ho ancora capito la strega ragazzi Che niente può spaventare il nostro uomo Oh con la testa Cosa ha in testa? Vabbè con la Vabbè l'uomo fungo in pratica Ok ragazzi visto che è morto Proviamo ad andare indagare in casa di Geraldo Non c'è assolutamente nulla Qua c'è uno studio che non va C'è un crafting table che non funziona Una fornace inutile Perfetto Possibile che il giorno d'oggi non ci sia qualcuno Con delle caramelle in casa Allora ragazzi è mezz'ora che giro Come un rimbambito alla ricerca della sua dentiera Vi assicuro che non ci sto capendo nulla Allora qua c'è la casa di Geraldo Ok io qua però la caramella non ce l'ho Perfetto Qua ce l'ho in Ok in particolare cosa devo fare? Devo tenere la prima caramella Ok devo avere la prima caramella in mano forse Ragazzi non ci posso credere Dopo 6.000 anni Ti prego dimmi che c'è la caramella dentro Ragazzi bastava leggere il foglio Una cosa spettacolare E niente ragazzi io direi di concludere qui questo episodio Mi scoccio un po' per la parte che abbiamo perso E che dire ragazzi io direi che questo video posso terminare E qui se mi è piaciuto di lasciare un mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Se volete avete facebook e instagram In descrizione o nei commenti come al solito E che dire ragazzi qui da flame dal nostro spacciatore di caramelle Perché ormai ha più pasticche Ma non lui che è un tossico Il nostro Geraldo che purtroppo ci ha abbandonato Dal padre eterno che oggi non ci ha infastidito Per fortuna Riusciremo a trovare le altre caramelle Sono fiducioso come un porchettaro Alla sagra dei vegani È tutto Bella rega Mi chiamo CJ Ho volto a mi città Come se nota Che qui faltava già Casi che non riconosco al barrio Ho matato a mia madre A l'astra del adversario Voy a vengarla con los Grove Streets Desde Ryder Peak Smoke Hasta suite